Preside, un interessante protocollo di intesa tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ENI consentirà a 20 studenti che fanno parte di una classe di conseguire di stipulare un vero e proprio contratto. Ci può spiegare di che cosa si tratta e che epilogo potrà avere questo percorso formativo, possiamo dirlo, di alternanza scuola-lavoro? Si tratta di un contratto di apprendistato che i nostri studenti del corso di elettrotecnica sono invitati a stipulare con ENI. I rappresentanti di ENI Corporate University sono stati in questa scuola l'altro ieri, hanno presentato agli studenti e alle famiglie la proposta. In questi giorni i ragazzi stanno riflettendo insieme alle loro famiglie, presenteranno le loro autocandidature entro giorno 25 e dopodiché si procederà alla selezione. Gli studenti selezionati verranno a costituire una classe ENI che nei successivi due anni scolastici farà un percorso integrato, nel senso che i ragazzi stipuleranno il contratto di apprendistato e quindi avranno gli impegni che sono connessi ad un contratto, si recheranno in azienda per almeno un giorno a settimana dove svolgeranno attività formativa ed attività operativa e poi nei periodi di sospensione dell'attività didattica saranno impegnati nelle giornate piene con ENI in questa attività. Avranno diritto a una piccola remunerazione, avranno diritto alle ferie. La cosa molto stimolante io ritengo è che aumenterà la motivazione e l'interesse degli studenti, creerà una forte sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro, anche perché prima di iniziare il percorso stipuleremo un patto formativo proprio perché il percorso sia pienamente efficace. Io credo che sia una grossa opportunità non solo per i miei studenti ma per il territorio, credo che sia un input perché altre grosse aziende possano proporre questo tipo di percorsi perché così andiamo a migliorare la qualità della formazione. Nel momento in cui rendiamo i nostri studenti competitivi è ovvio che troveranno lavoro in qualunque parte del mondo, di questo sono certa. I ragazzi hanno reagito benissimo anche perché già nel corso dell'anno appena trascorso hanno iniziato alcune attività di alternanza scuola lavoro e io ho potuto verificare che in quella sede c'è una forte motivazione. I ragazzi cambiano, non è necessario riprenderli, basta che vengano date le consegne e loro le eseguono in maniera corretta senza necessità di stimoli ulteriori da parte dei docenti, quindi credo che sia la strada giusta.